Si celebra domani la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L'obiettivo è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca ed il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Secondo una ricerca condotta dal Censys, l'Italia è tra paesi europei che destinano meno risorse alla protezione sociale delle persone con disabilità. Oggi iniziativa a scuola al comprensivo Giovanni Verga. L'obiettivo di sempre è che la scuola sia inclusiva, che la scuola sia aperta non teoricamente ma praticamente al dialogo, al confronto e che si adoperi costantemente per la crescita e la gioia dei ragazzi che chiaramente sono affetti da patologie dell'autismo ma non sono diversi. Sono dei ragazzi che hanno grandissime potenzialità, chi più o meglio della scuola, insieme agli attori del territorio. Noi oggi siamo gioiosi di avere qui la presidenza e il direttivo dell'Aias perché è uno degli attori del territorio con cui lavoriamo quotidianamente, insieme alle famiglie, insieme a tante altre associazioni che si occupano dell'aspetto ludico e della socializzazione di questi bambini. Metà della loro vita la vivono qui, quindi non possiamo non sentirci responsabili e attori attivi di questo loro processo di crescita. Non esiste una terapia farmacologica di trattamento dell'autismo ma il trattamento che si può fare su questa patologia è solo di tipo cognitivo comportamentale, un approccio multidisciplinare. Proprio per questo mi vanto di dirigere una struttura che ha un'equipo multidisciplinare e può affrontare da tutti i punti di vista questa patologia, non solo trattando il bambino o la bambina autistica ma prendendo in carico anche le famiglie che poi hanno l'onere maggiore di caricare questa patologia. Noi abbiamo un progetto che speriamo che esca il più presto possibile dal comune di Gela per fare il dopo di noi perché molti genitori, giustamente, una volta che non ci saranno più, questi ragazzi dove andranno a finire? Mentre noi stiamo cercando di creare questa casa perché il dopo di noi non sarà altro che un'accoglienza per questi ragazzi e si troveranno bene perché dal momento che hanno vissuto da bambini fino a grande dentro l'Aias continueranno a vivere con gli stessi operatori, con gli stessi assistenti, con tutto il circondario che li ha visti crescere. Per cui spero con tutto il cuore che il comune di Gela ci faccia questo regalo di fare uscire il più presto possibile questo progetto in modo da tranquillizzare tutti i genitori che giustamente non sanno un domani dove andranno a finire i loro figli.